Usci dallo spazio Fipe per curiosare, vediamo dei veri artisti, ma questi sono artisti, ma lei è uno scoltore, Beppo Tonon, leggo nella sua camice, nella sua chiamiamola divisa, ma Beppo Tonon è un nome che io ho già sentito nel mondo della gelateria o mi sbaglio? Sì, allora io arrivo da Treviso e parla di gelateria, io con il mio gruppo Roberto Rinaldini e Sergio Colalucci nel 2006 abbiamo portato in Italia la prima coppa del mondo di gelateria, io ero il caposquadra. Ah era lei, ecco Beppo Tonon, adesso l'abbiamo rintracciata e cosa c'entra l'intaglio con il gelato? Allora io non so se posso usare questo termine ma è la verità, ho inventato le coppe del gelato con la frutta scolpita, quindi quando vedete coppe di gelato con la frutta scolpita o sono miei figli o figli di miei figli ed è stata una cosa che è stata considerata un'invenzione che mi ha fatto girare tutto il mondo. Quindi diciamo che la scultura serve per attirare lo specchietto per gli allodori? Allora diciamo che la decorazione che è quella che io cerco di portare avanti da tanti anni è il primo dei nostri sensi e la vista che condiziona anche il palato poi alla fine e quindi se non fosse così avrei sprecato metà della mia vita perché ho sempre cercato la parte decorativa, cioè portare il bello a tavola. Portare il bello a tavola con la qualità perché non basta essere belli. No, la qualità è la base, dobbiamo pensare sempre che dobbiamo avere degli ottimi prodotti, da un angelo non esce un cavallo quindi bisogna avere degli ottimi prodotti, poi la parte decorativa ha il suo grande ruolo insomma come inizio, però dopo deve essere anche sostenuta sempre da un ottimo prodotto. Bene, la parte decorativa lei mi sembra di conoscerla. Sono un dirigente nazionale della Fipe. Come ne sembra questo maestro? Il maestro mi sembra bellissimo e si impegna molto. Ho sentito quello che lei ha rilasciato come dichiarazione che tutte le decorazioni che vediamo in giro sono figli suoi e figli dei suoi figli. Che coppe di gelato comunque perché la scultura vegetale è nata già nel Cinquecento con lo scalco che tutti i potenti, anche i papi, avevano questa figura per abilire le proprie tavole. Comunque credo che lei ha pochi figli perché giù al sud è bellissimo quello che fate e manca questa preparazione. Di che sud parla? Di che regione parla? Di Italia, della Sicilia. Della Sicilia, sono stato più volte in Sicilia, tra l'altro regione straordinaria. Oddio, noi che se arriviamo dal Veneto non soffriamo di bellezze. Però io credo che la Sicilia e la Puglia siano due regioni straordinarie. Cosa facciamo per allargare un po' il giro di queste preparazioni, per formare questi ragazzi? Io sono un dirigente nazionale della FIPE, qui ce n'è un altro collega che sta appena arrivando e sarebbe propenso. Allora lo coinvolgiamo. Allora io vengo molto volentieri, sono già stato coinvolto, pensate con la FIPE, ancora ai tempi di Alemanno Ministro, che siamo andati al Parlamento d'Europa a presentare questi prodotti. Non venga più da visitatore però purtroppo. No, 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 vengo da formatore e vengo molto molto volentieri. Allora siamo... Allora la FIPE organizziamo tutto. Perfetto, siamo qui. Bene, allora noi continuiamo questa nostra chiacchierata. Allora, vede come ha iniziato, ha subito colpito nel segno. Allora abbiamo detto che la decorazione serve per attirare il cliente, no? Sì. Attirare il cliente poi però la base deve essere qualitativa. Sì, ma altrimenti sarebbe come una bella stupida. Non so se rendo l'idea, no? Ecco, poi si è sostenuta. Allora qui intanto io sto preparando il mio bigliettino da visita che è un pavone che lo farò con un'anguria. Poi magari in una fase successiva possiamo anche vedere il finale di questo pavone, no? Qui ho intagliato quest'anguria, sto adesso iniziando e questa è una mia invenzione, anche questa del pavone, che è nato come supporto di spiedini di frutta per il banco del bar. Questo qui. E poi l'ho portato avanti all'inverosimile, quindi può essere quando si fanno banchetti, quando si fanno ogni occasione di festa, diciamo così, si possono fare. Io adesso sto staccando, vedete, questa testa da questa anguria, vedete? tolgo e qui vedete come il collo si muove così. Stiamo elaborando un cocomero? Sì, e lo facciamo diventare un pavone. Un pavone. E poi però, questo è una questione di secondi, stamattina arrivando ho visto l'albero della vita dell'Expo e allora ho pensato che possiamo farlo anche con le verdure, guardate, è una questione di secondi, lo divido, guardate, in otto parti. Basta copiare la natura, quello che è fatto, fare i giapponesi in qualche modo, no? Possiamo fare, copiare bene, guardate, questo è un porro che abbiamo suddiviso così, intagliato in otto parti. Adesso se la stringe, vedete, e noi abbiamo fatto l'albero della vita che abbiamo visto qui di fianco. Che ne dite? Bene. In poco tempo, eh, siamo... Grazie, sì, non ci vuole tanto tempo. Bisogna sempre arrivare alla sintesi, non perdici troppo per strada perché abbiamo sempre meno tempo. Quindi creare un effetto, un'emozione in pochissimo tempo. Crea anche un bel profumo questo porro. Questo sì. Possiamo dire un profumo, un odore, insomma qualcosa emana questo porro. Noi abbiamo, siamo vicini ad una prova, lei conosce questa grande organizzazione, nell'angolo... Ecco, l'una prova, sono produttori agricoli, eh? La forza dell'agricoltura, la forza delle produzioni ortofrutticole, che valore danno la nostra gastronomia? Tantissimo, tantissimo. Noi siamo fortunati che siamo in un paese straordinario che abbiamo di tutto. Anche l'agricoltura, io vedo, sta facendo dei miracoli, si stanno organizzando, portando prodotti freschi a tavola. Ha una grande forza perché partendo da un prodotto sano, un prodotto fresco e buono, abbiamo dei risultati eccezionali dopo. E questi risultati partono dalla terra, questo deve essere chiaro, eh? Partono dalla terra, io arrivo dalla zona di Treviso, quindi siamo i coltivatori del radicchio di Treviso, che è un miracolo di Dio anche quello, degli asparagi, così. Facciamo dei prodotti straordinari che non possiede... nessuno... cioè noi... io credo che noi italiani siamo i più bravi di tutti. Poi siamo anche un po' italiani che ci lasciamo un po' andare, ma abbiamo dei prodotti straordinari e un paese unico. Bene, allora noi la seguiamo, grazie per questa sua esternazione. Aspettiamo. Ecco, allora noi la seguiamo, eh? No, vado avanti. Lei vado avanti, poi più tardi ritorneremo. Una battuta sulla scuola, sulla formazione. La formazione è importantissima. Proprio adesso io ho anche un'attività commerciale, quindi gelateria e anche zona ristorazione come banchettistica. Da due anni la scuola sta facendo un passo straordinario. Quello di inserire i ragazzi delle scuole alberghiere, metà a scuola e metà nel pratico. Perché poco vale il pratico senza la scuola, ma poco vale anche la scuola senza il pratico. E vedo che si stanno formando dei ragazzi in questi lunghi periodi, che uno che poi che cerca lavoro, quando è un ragazzo già formato, ha la porta aperta. Certo, cioè noi dobbiamo legare molto gli istituti tecnici e agrari con gli alberghiere. Sono scuole importantissime. E la collaborazione è sempre uno più uno fa tre, perché viene la terza via, no? Uno più uno fa tre quando si collabora. Dobbiamo unirci e collaborare di più in tutti i settori. Io credo questo. Senza lasciare fuori l'agricoltore. È la base. Il produttore. Non sarebbe senza agricoltura il mondo. Bene, noi ci ricolleghiamo. Prendiamo la linea da tutto food, sempre in questo spazio dedicato alla ristorazione. Siamo da Fipio, o meglio, in questo momento stiamo vedendo un artista. Ma lei anche con la creta riuscirebbe a fare delle cose stupende, non solo con la frutta. Ci mancherebbe anche quella. Ne ho abbastanza già con la frutta. Bene, noi siamo partiti dall'inizio, siamo partiti da un cocomero, ci abbiamo messo le fragoli, il kiwi, l'ananas. Ma l'ananas non c'entra niente, però. L'ananas non c'entra, però ci sta come fatto decorativo, diciamo. Maestro, devo dire che è veramente bello. Io vorrei fare proprio un primo piano, vorrei che il amico Luciano Paoloci facciamo una bella inquadratura, perché il nostro maestro Beppo ci ha fatto un'opera d'arte straordinaria. Facciamola vedere anche al pubblico. Guardate, siamo partiti da un cocomero e nell'arco di quanti minuti? 12 minuti, credo. 12 minuti è riuscito a fare un'opera d'arte? Sì, un'opera d'arte. Un'opera, adesso non esageriamo, quelle opere d'arte. Ecco, no, un'opera d'arte. Possiamo classificare un'opera d'arte questa? Perché no, eh? Molta arte. Grazie. Maestro, io vorrei coinvolgere questi ragazzi, perché... Li coinvolgeremo, li coinvolgeremo, sono anche molto attenti. Il fatto che siano qui in piedi a guardare è una cosa positiva. Eh sì, fa onore anche perché... È logico. Anche in fiera, in questo laboratorio, diciamo spazio aperto, possiamo sicuramente imparare qualcosa. Andiamo avanti con un altro adesso. Bene, cosa ci fa? Adesso farò un'anguria che scolpirò in modo molto veloce, però poi andremo a ingigantirla con una buccia d'anguria. Quindi la parte che di solito si butta diventerà la parte importante di tutto il fiore, quella che dà valore a tutto. Poi lo vedremo. Maestro, io vorrei ripetere quello che ha detto nel precedente collegamento. L'importanza di queste, le chiamo sculture, naturali, per attirare. Perché sono importanti e perché anche un giovane si deve formare anche su questo fronte, perché anche per vendere gelato è fondamentale. Nel Settecento il Geiger, cuoco tedesco, arrivava dalla Germania e andava alla serenissima Venezia. Si fermò a Padova e venne affascinato dalla frutta, che ha visto i colori della frutta italiani. Si fermò, scrisse anche un libro e consigliava, suggeriva alle scuole alberghiere dell'epoca di portare avanti questa tecnica perché costava poco e dava un grande impatto nelle tavole. Nel Settecento ancora. Quindi pensate quanto era lungimirante questo Geiger. Pensate che in quei tempi i coltellini per scolpire li preparavano con il legno di bosso cresciuto in terreno arido. Oggi invece abbiamo altri tipi di coltelli insomma. Bene, noi la seguiamo sempre con le nostre telecamere. Questa naturalmente non la distrugge, anzi la mettiamo. La metteremo qui in mostra adesso insieme a tutte le altre cose che faremo. Bene, allora la mettiamo in mostra e la seguiamo poi più tardi. Il dottor Sbraga mi sembrava di averlo visto in questa area, se possiamo coinvolgerlo, altrimenti riprendiamola lì. Ecco lo vediamo, Tos Braga. Ecco siamo in collegamento di questo spazio Fipe. Approfittiamo in diretta anche perché è un momento di animazione. Abbiamo visto questo nostro maestro che ci ha insegnato come fare sculture per attirare, ma poi ci ha parlato anche di qualità perché non basta attirare, poi ci deve essere un prodotto di grande qualità. Sicuramente la qualità alla lunga vince, anche se stiamo attraversando momenti abbastanza complicati perché ci sono problemi di economia che non riparte, c'è un problema di potere d'acquisto delle famiglie, ci sono attenzioni particolari al risparmio e così via. Ma abbiamo visto che la ristorazione è quella che punta sulla qualità, ma qualità non vuol dire necessariamente eccellenza. Quando si pensa alla qualità si pensa magari sempre al ristorante stellato o così. No, la qualità si fa anche nella ristorazione normale. Si può fare con materie prime di qualità, soprattutto con la competenza. Come abbiamo visto in questo caso, adesso in una operazione di dimostrazione naturalmente, ma la competenza è fondamentale anche per dare maggior valore al prodotto. Ecco, lo spazio FIPE quest'anno vuole mettere in evidenza i prodotti naturali. Infatti l'ortofrutta, gli ortaggi, la frutta, tutto quello che può sembrare più sostenibile è stato in qualche modo messo in mostra. Ma sì, dopo due anni c'è una sorta di prosecuzione ideale del Diespo, dove al centro è stato messo il cibo, non soltanto per la parte commerciale, ma soprattutto per la parte di valore, di valore simbolico del cibo. E quindi noi abbiamo voluto riprodurre, riproporre quell'idea del cibo come valore, quindi di un prodotto che non è una merce qualunque, ma è un condensato di valori culturali, sociali, ambientali. E per questo va trattato in un certo modo, non appunto come una merce qualunque. Penso che qui si veda con questa attenzione al risparmio, al riuso delle materie e quindi anche al riutilizzo del cibo che non si consuma quando si va al ristorante. Quindi la possibilità di portarselo a casa per consumarlo, per dargli una vita, per non farlo finire appunto in discarica. E poi questo discorso della frutta, degli ortaggi, delle verdure, che sono l'emblema del cibo come fonte di salute e benessere. Quindi questo è un po' il filo conduttore della presenza di FIPE. Ecco, poi l'alternanza scuola-lavoro, il coinvolgimento dei ragazzi, delle scuole, della formazione, dell'alta formazione con casta alimenti. Ecco, mi sembrano fondamentali questi passaggi, oserei dire importantissimi, fondamentali per avere un futuro di successo. Assolutamente sì, la competenza viene prima di tutto. Se non si è competenti non si sanno scegliere neanche le materie prime, non solo lavorarle, ma proprio sceglierle. E quindi l'approvvigionamento è il primo passo per fare correttamente il mestiere del ristoratore, di chi opera oggi nel fuoricasa, in un bar, in un ristorante. Quindi la scelta, le competenze ed è giusto che ci sia un trasferimento da chi si è affermato in queste professioni verso quelli che dovranno poi entrarci. Cosa cambia e come cambia la ristorazione oggi? La ristorazione è molto cambiata, tant'è che parlare di ristorante non ha molto senso oggi perché bisogna parlare di ristoranti, parlare di bar non ha senso, bisogna parlare dei bar. Se 20 o 30 anni fa si faceva riferimento al ristorante, si pensava ad un luogo con dei tavoli, con un servizio. Oggi è diventata una cosa molto più segmentata perché sono cambiate le abitudini dei consumatori e questo a volte produce anche una deriva qualitativa che non è sia nel prodotto, nel servizio, ma anche nella qualità delle città, dei centri storici che diventano una sorta di circo in cui tutti fanno tutto e magari a volte lo fanno anche male. Tutto fanno tutto? Intende questi mercatini disorganizzati? Sì, diciamo questa proliferazione di take away, di mini market dove si consuma cibo, si vende alcol, questa la deriva dei centri storici è sotto gli occhi di tutti, tant'è che sono stati assunti i provvedimenti per tentare di porre rimedio e fino al punto di tornare al passato, cioè quello di impedire che possano aprire nuove attività se non hanno certe caratteristiche o addirittura nuove attività a tucurre come il caso di Firenze. Vuol dire che il rapporto tra attività commerciali, ristorazione, cibo e territorio e centro storico è un rapporto molto forte che va gestito con molta oculatezza. Con molta professionalità. Bene, grazie dottor Sbraga, noi ci ricolleghiamo più tardi sempre da questo spazio FIPE per ora è tutto da TuttoFood.